Ho preso sei, ho preso sei, scarta la carta, scarta la carta, mille accendini, facci sognare due regaletti perché ho preso sei. Cosa ci sarà nella tasca di Doraemon? Prima vogliamo interrompere le polemiche, c'è chi dice che sei è poco, sei ragazzi è sufficiente, e sufficiente vuol dire abbastanza. No, no, è sufficiente cinque, tu hai preso sei e ti meriti il regaletto, dai, apri. No ragazzi, guardate. D'accordo, dovevo vedere se sono modellizzati. Dai ragazzi, che roba, che roba, i tasti, così tutti arancioni, così puoi avere i tasti che preferisci di più colorati, ragazzi, per giocare a Fortnite. Oh, va bene, tanto vuol dire le cose a casa. Una Bini, scarta la carta, scarta la carta, mille accendini, facci sognare. Allora, guarda, questi sono i tasti, abbiamo sia la tastiera da gaming meccanica che la tastiera con una mano, provo a mettere il W, togli il W con quell'attrezzo, guarda questo, no, prima lo togli, metti dentro, e poi tiri. In realtà, di questo agenzio è più bello nero, perché si adatta più, oh mio Dio, che figo. E poi di qua, se ti va, se ti va, magari non c'è il W, però potresti mettere un'altra lettera, che tu sai che è il W, lo metti qua, se ti va, o se no puoi mettere tutta la zona tasti, puoi mettersi i tre tasti colorati, capito? Ma vogliamo andare a scartare l'altro pacco? Vai! Andiamo. Scarta la carta, scarta la carta. No, ma su poi vi mettiamo il link in descrizione, eh? Dai, tira fuori, tira fuori! Dai! No, no, di ninja! Sì! E' di ninja, ragà, vieni qua! Quello è chiuso proprio ninja! Nella logite, con i pesi interni, ogni tasto per costruire un muro differente, vai adesso, provo da sotto, provo da sotto, vai! Vai qua 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 qua! Non lo so come... Scarta la carta! No, 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 no. Gli l'ha regalato papà, ma poi gliel'avete regalato anche voi, per premiarlo che sta diventando sempre più bravo a giocare a Fortnite! Allora, questo si può anche togliere, eh? Il cavo? Puoi giocare con o senza cavo. No, no, però adesso non lo so come si toglie il cavo. Può essere che non si toglie, non lo so. Se forse c'è un metodo, forse sì, forse no. Col cavo. Allora, aspetta, aspetta, fammelo vedere. Qui si mette una mano, tasto, tasto, e questo qua si con l'indice si può premere. Questo qua, questo con l'indice si può premere. Guarda, 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 guarda. Qui c'è un tasto e qui c'è un tasto, vedi? Qui si può costruire qualcosa, adesso, capito? Guarda come ce l'hai vicino, che figli. Questi sono fondamentali, questi tasti, eh? Ah, ci stanno pure questi qui. E poi qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui. Puoi fare ta, ta. Questo no, questo no. Questo, ragazzi, è il distanziatore. Eh, no, è il triangolo che distanzia. Ta, ta, qui ci mettiamo la mappa. Che dici? Qui ci mettiamo costruzione. Ma ragazzi, ma cosa serviranno a questi? Questo penso pure col pollice lo puoi gestire. Guarda, Ale. Uno, due, tre. E questo con l'indice, a fianco. Questo penso per bene il pollice. Questi sono i pesi, Alessà. Perché qui sotto, togli questo coperchio. Adesso non so come si toglie. Perciò che c'è alcuna mano. Magari se tu ci provavi a vedere, magari lo toglieri. E poi di metterci dei pesi dentro. Ma che cavolo? Allora, ragazzi, io non ti ho rotto il video. Non so a che punto l'ho interrotto il video. Dai, rifacciamo vedere un attimino. Allora, rifai vedere come stanno messi i pesi, Alessandro. Ma vado, devo mettere l'ultimo peso. Vai, fai vedere come li togli. Ok, li metti dove ti pare, come ti pare, sti pesi. Eh, ma non so come toglierli. Con questo, proprio. Bravo, togli. Ecco qua, dai. Fatto, fatto. E dai, metto l'unghio non ce l'hai, giustamente. Ok, dai. Basta, basta, lascialo là. Lettili dove ti pare. Prova un po' a metterli per così, tutto intorno. No, che finno. Ma sa solo per così. Allora, quella è di riserva. Dai, rimettili dentro. Poi rifacciamo vedere tutti i tasti. Vai, mentre fai vedere quelli, inquadro qua. Vedi come fanno vedere i pesi, la calamita per ritoglierli. Poi ci sono questi due tasti. Uno e due. Probabilmente uno, forse, per la sensibilità. O forse, tutti e due, non lo so. Eh, da studia un attimo, raga. Ce l'avete qualche buon tutorial su YouTube per imparare a usarlo? Questa è quello lì che spiega lì. Eh, magari, però, se l'inglese, capace, qualcosa non la capisco. Qualcosa la intuisco, qualcosa, qualcosa non si fugge. Chiudete bene, chiudete col tappo? Tappo, bello, bello, bello. Ok, rifagli vedere i tasti. Guarda qua. Uno e due. Uno, questo qua è un tasto per sé. Dopo vuoi fare così. Un tasto qui che tu vorrei prendere così con l'indice. Qui col pollice. Tre tasti per il pollice. Tre per l'indice. No, quattro per l'indice. Ma non è che si fa così il mouse di niente? No, no, guarda. Riprendiamo da capo. Guarda, l'impugnatura, mettiamo la mano. Ok. La mano ben salda sopra il mouse. Il pollice è qua. C'è la possibilità col pollice di premere un tasto qua avanti. Ma non è che il medio va qui in mezzo. Almeno ti puoi premere questo. Buono, buono, buono. Un attimo, questo qua. Piove, rosa, piove. Va bene, un attimo, un attimo. Poi rompere tutto tu. Il pollice sicuramente preme questo, questo e poi potrebbe premere questo. Il pollice può ottenere anche così. Pronto a preme questo e questo. E questo è più scomodo per cose meno di emergenza. Sicuramente la costruzione si fa con questo, questo. E poi qui l'indice può toccare sia il tasto tastico, il tasto questo, ma l'indice fa doppia funzione, vedi? Può fare questo e questo. Il pollice può viaggiare, penso, tra questo, questo e questo. Poi qui la rotellina può fare di qua, che è intuitivo, quindi potrebbe essere un tasto molto rapido da usare, di qua, che è meno intuitivo, perlomeno per me che sto a destro, spingi la rotellina da quest'altro lato e fa un click. Quando fai così fa un click. Quindi la rotellina, se la premio verso il basso, fa un click. E questa è una funzione. Due, tre funzioni, più scrolla. Scrolla anche molto bene. Poi c'è questo tasto qua che interrompe lo scroll e lo fa diventare scatti. Tic, 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 tic. Quale, quale? Questo. Vedi? Così è scatti lo scroll. Invece se tu devi che ne trovi una pagina in tempo, arriva in fondo, gira e gira all'infinito. Questo interrompe lo scroll. Ma c'è un po' va, voglio girare all'infinito. Voglio vedere quanto gira. No, fantastico, gira benissimo. Mazza, sempre sapene. Poi c'è questo tasto che sicuramente è un'altra funzione. Ogni tasto è contrassegnata da una lettera. Qui di semplice è scritto G9. Ecco, poi si è formato adesso. Meglio del fidget spinner. Poi costa pieno pure dei fidget spinner che abbiamo comprato st'estate. E c'erano qui, costato uno, due di Dio. Invece questo qua è solo 70 euro. O di meno. Col prezzo di Amazon. Poi, se no, per se lo vedi, qui c'è scritto G7, vedete, raga? G7, G6, 8. Questo per il rotellino per bloccare. Vedete? Che figata è, raga? Ma tu, se fai così, ti rifletti pure dall'altra parte. Fammi vedere se qui c'è qualcosa per toglielo, non mi sembra. Forse allora è col capo. Figo, però, papà, l'unica cosa è che a me mi dà sempre un pa... Vai! Ciao, ragazzi, vi vediamo un prossimo video. Ciao! Ciao, amici! Ciao!